Entrano nel vivo i festeggiamenti in onore di Maria Santissima del Soccorso. Domani, primo febbraio, è il giorno del voto, attraverso cui la città di Sciacca rinnova il proprio affidamento alla sua patrona. Come è noto causa pandemia, anche quest'anno non si svolgerà alcuna processione cittadina. Alle 11.30 si svolgerà la solenne concelebrazione eucaristica, preseduta dal vescovo di Cefalù Giuseppe Marciante, omonimo dell'arciprete di Sciacca, alla presenza del clero e delle autorità civili e militari cittadine, durante la quale il sindaco di Sciacca rinnoverà, come da tradizione, il voto alla Madonna a nome di tutta la città. Saranno presenti anche i rappresentanti delle varie comunità parrocchiali. Santa Messa delle 11.30, che sarà ripresa dalla nostra emittente, è trasmessa in diretta sul canale 115 e sulla nostra pagina Facebook. La famiglia cristiana rinnova il voto, è il tema della giornata dell'ottavario di domani, che vede nel primo febbraio uno dei momenti clou dei festeggiamenti, che continueranno anche nel pomeriggio. Un'altra Santa Messa in programma alle 17 e poi alle 19 ci sarà la concelebrazione eucaristica, preseduta dall'arcivescovo di Agrigento Alessandro Damiano. Santa Messa previste anche alla Chiesa di Sant'Agostino alle ore 8.30, 10.30 e 18.00. Domani sia la Chiesa Madre sia quella di Sant'Agostino rimarranno aperte ininterrottamente tutta la giornata, dalle 6 del mattino fino alle 21, per dare la possibilità ai saccensi di rinnovare singolarmente il proprio affidamento alla Madonna. L'ultima processione del voto a Maria Santissima del Soccorso si è svolta a febbraio del 2020. Da allora il Covid ha sconvolto non solo le vite di tutti, ma anche le tradizioni. È per questo motivo che quest'anno la nostra emittente ha pensato di portare l'ottavario a casa dei saccensi, proponendo ai nostri telespettatori tutti i giorni la Santa Messa delle ore 8.30. Continuiamo il nostro servizio con la trasmissione in diretta domani della celebrazione alle 11.30.